Buonasera ragazze, nuovo video e questo sarà un video molto breve perché è un mini video haul, mini shopping di due acquistini che ho fatto da Lidl. Sono stata da Lidl e volevo acquistare qualche prodottino della Sien, della linea bio, ho trovato pochissimo e quello che ho trovato ho comprato. Qui da noi, a Genova, ci sono mi sembra 5-6 punti Lidl, io sono in quello più vicino a casa mia che purtroppo è piccolo, quindi è molto poco fornito. Volevo anche comprare quegli specchi da 6,90€ che vedo impazzare qui su YouTube, quelli da tavolo che hanno la doppia lente, quella di ingrandimento, quella normale, ma ahimè non c'erano, né finiti, proprio non c'erano e quindi penso che andrò a vedere in qualche altra Lidl con i Vigenova per vedere se riesco a reperirlo. E niente, ho fatto anche un po' di spesa che non vi mostro semplicemente perché erano due cosine che abbiamo già mangiato per cena, ho comprato, vabbè, diciamo finito proprio no, però non ve li mostro, i Twix come dolcetto, li abbiamo mangiati uno per uno e ne ho ancora alcune in dispensa e poi per cena ho comprato invece da fare delle trofie al pesto, quelli abbiamo già consumato, ho comprato le trofie, il pesto ce l'avevo e niente, quindi comunque non sono stata a farvele vedere semplicemente perché l'ho già consumato ed erano proprio due cose. E niente, bando al licenci e vi faccio vedere quello che ho acquistato dall'idol di Sien, linea bio. Allora, cominciamo da, sono due prodottini, cominciamo da questo contorno occhi della linea Sien Nature, ed è questo qua al melograno, appunto al POM Granat. L'ho pagato 1,79 euro, cioè ditemi voi se non è un affare, 1,79 euro. Allora, vi dico quello che c'è scritto, allora, Sien, crema con tornocchi e la melagrana, contiene un pregiato olio essenziale di melagrana, d'agricoltura biologica controllata. È stata studiata appositamente per soddisfare le esigenze della delicata zona perioculare e rivitalizzare l'aspetto. Uso è applicare quotidianamente mattina e sera, naturalmente della linea bio, quindi ha un inci molto buono. Ticiamolo fuori e vi faccio vedere come si presenta. Allora, la confezione è questa, appunto. Ho preso quello al melograno semplicemente perché l'altra cosa che vedrete è dell'altra linea bio, quella a la rosa canina, se non mi sbaglio. E quindi ho deciso di riprovare questo al melograno e lo alternerò ai miei contorni occhi. Al momento non lo utilizzo ancora perché ne ho tre che sto alternando, quindi aspetto che finisca uno e lo metto in ciclo anche a lui. E quindi sono curiosissima di provarlo, vi farò poi una recensione se vi interessa su questo prodottino, anche perché per 1,79 euro è assolutamente da comprare. Poi, altro prodottino che ho comprato in offerta a 2,99 euro è questa crema Night Cream Wild Rose, che se non sbaglio Wild Rose è rosa canina. È un 50 ml di prodotto, ah questo non vi ho detto quant'è, è un 15 ml di prodotto e non c'è scritto il PAO perché c'è scritta la data di scadenza qua e scade a giugno del 2019. Quindi c'è tempo. Mentre questo è un 50 ml e scade a luglio del 2018. È la crema appunto Night Cream, quindi è la crema per la notte. Allora, e dice, Sien crema viso notte, la rosa canina, contiene un pregiato olio essenziale di semi di rosa canina da agricoltura biologica controllata. Aiuta al processo di rigenerazione cutanea e attenua le rughe. dato che io sto finendo la mia crema, come si chiama, quella all'aloe dell'equilibra che ho, che alterno un po' di giorno, un po' di sera, alterno ad altre creme che ho, ho deciso di comprare questa per non rimanere senza. Poi ripeto, 2,99 euro c'è veramente un affare. E appunto il packaging si presenta così, un 50 ml di prodotto e anche i pack di questi prodottini della Siena sono deliziosi, così colorati, con questi appunto disegni che riproducono gli ingredienti principali del prodotto, quindi il melograno e la rosa canina e sono deliziosi. Vi farò una recensione anche di questa, anzi magari ve le farò, ve le recensirò insieme, li testerò un pochino e poi vi farò sapere più avanti come mi sono trovata. Mi dispiace di aver comprato solo queste due cose, ma ripeto, non c'era più niente. Non c'era più niente di quel poco che avevano della linea Sien Nature e diciamo di altre cose che magari ci sono anche in altri leader che vedo qua su YouTube dei vostri acquisti, non ho trovato nulla. Volevo anche acquistare uno smaltino della Sien, ma ahimè erano terminati tutti, c'erano rimasti due o tre colori che non mi piacevano. E quindi niente ragazzi, questo è tutto il mio shopping da Lidl, Sien. Spero che il video vi sia piaciuto e che vi abbia tenuto compagnia. Perdonate la mis ma è sera o cenato, sono stanchissima, è una giornata intensa tra lavoro, cose da fare, spesa, palestra, di tutto, quindi sono veramente capo, ho deciso di fare questo video proprio in totale relax. E niente ragazzi, vi mando un grosso abbraccio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!